È stato il grande anno della durata degli Alpini, il grande anno che ha portato eventi dopo tantissimo tempo in cui se ne discuteva al Parco della Pace e pensiamo che Vicenza possa proseguire su questo sentiero, sentiero dell'orgoglio, della capacità di organizzare eventi da decine di migliaia di persone che facciano conoscere la nostra città al mondo. Ma oltre alla promozione e alla valorizzazione della città per attrarre turismo e investimenti, il sindaco Possamai sottolinea l'intenzione di voler offrire ai Vicentini una città a misura di famiglie, a partire dal potenziamento dell'offerta di posti in asilinido e scuole materne pubbliche, visto l'impennata di richieste. Ma non solo. Quest'anno siamo riusciti ad aprire uno spazio urbano bellissimo come il Giardino di Santa Corona che è diventato il parco del centro storico. Vedere famiglie e bambini in quell'area verde è bellissimo dopo che per tantissimi anni i Vicentini passano davanti a un cancello chiuso. Quest'anno apriremo anche lo spazio di San Biagio, un altro spazio da tanti anni chiuso. La vera grande sfida però per Possamai sarà quella urbanistica. Finita l'epoca del consumo di suolo, nel nuovo master plan della città sono state identificate alcune decine di priorità a cui presto verrà data risposta. Penso alla rigenerazione urbana, a tanti interventi nei quartieri che stanno recuperando spazi dismessi. Penso anche a grandi progetti per cui all'ex macello da recuperare. Quest'anno siamo fiduciosi di poter avviare l'intervento di uno dei simboli del degrado in città. È il tempo di rigenerare patrimonio per cui tanti interventi già quest'anno, penso al condominio di Via Mameli abbandonato per decenni, all'ex Enel sempre nella zona di Santa Bertilla. Penso anche ad altri interventi come il parcheggio che nascerà a San Silvestro recuperando con un'auto rimessa un'area abbandonata da decenni. Per cui una città che si rimette in moto senza consumare suolo.